Siamo entrati praticamente in guerra, diciamo che si può sostenere che siamo in guerra senza che ci sia stato nessun tipo di dibattito né pubblico né parlamentare, è serio, secondo noi. Secondo noi è fondamentale che questo dibattito ci sia, appunto, e quello che facciamo è dare un contributo di idee, di partecipazione, che mi sembra sano.